Musica Come è andata la gara? Eh molto bene, sono partito dall'inizio fortissimo e per fortuna sono riuscito a scappare via Anche se avevo alla fine un po' di problemi al carburatore che non riuscivo più a uscire dalle curve Questo è il mio debutto nella Rocca e anche per la prima volta con i freni davanti che non avevo mai provato E quindi come prima gara va bene Sì 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 Sì